Cura naturale per Bunions, stanco di foe Bunions. Scopri la soluzione naturale a questo grave problema ai piedi. Ora puoi correggere completamente i tuoi piedi colpiti da borsiti con metodi naturali molto potenti. Ottieni le bocche ti aiuterà a sistemare i piedi in pochi giorni. Conoscere i modi migliori per alleviare il dolore dei borsiti. Scoprile dalla guida perché dovresti evitare un intervento chirurgico per i neonati. Ulteriori informazioni sui pro e contro della chirurgia per la rimozione di borsiti. Scopri come prevenire la ricomparsa dei borsiti. Conoscere i diversi tipi di alternative di chirurgia borsale. Fai attenzione ai fattori di rischio per lo sviluppo dell'alluce. Sei a rischio di sviluppare borsiti? Scopri i migliori metodi di trattamento dell'alluce. Scopri dalla guida se Bunions sono ereditari. Questa guida ti aiuterà a scegliere le migliori scarpe per il tipo di borselli che hai per movimenti comodi. Scopri come evitare i borsiti nei ballerini. Sapere quali sono le cose che puoi fare quando il tuo alluce ti fa male. Conoscere i tre principali aiuti per alluce da provare. Questa guida ti insegnerà come trattare i borsiti in modo naturale. Sbarazzati dei borsoni sporgenti con l'aiuto di rimedi naturali e domestici molto potenti. Prova i rimedi naturali suggeriti nelle bocche e ottieni un paio di bellissimi piedi senza dover eseguire un intervento chirurgico costoso e complicato. Per una frazione di pochi centesimi, i risultati saranno strabilianti. Clicca il borsiti.curenof.info link indicato di seguito nella descrizione per ottenere subito la guida, di addio ai brutti e scomodi Bunions per sempre. Borsiti.curenof.info